Ciao ragazzi, siamo qui da Logitech e stiamo provando questa nuova cassa particolare a 360 gradi è una cassa che presenta 4 speaker e praticamente si accende da questo pulsantino e qui permette di fare la situazione tramite bluetooth o tramite NFC è possibile collegare tramite un'applicazione apposita 2 addirittura di queste casse per andare ad aumentare la potenza dell'audio, del volume e una volta che noi abbiamo collegato il dispositivo tramite il bluetooth avremo qui sopra la lucetta accesa del bluetooth e basta andare con il nostro smartphone a premere play una volta che abbiamo fatto la situazione bluetooth o NFC facendo play praticamente ecco che l'audio parte ora proveremo a fare un audio massimo ecco questo era il massimo audio che era possibile fare con questo dispositivo inoltre dobbiamo ricordare che il dispositivo ha un'ampiezza audio di 360 gradi che è waterproof quindi anche immerso in acqua o bagnato non ha problemi di alcun tipo e poi che ci permette di avere una riproduzione fino a 15 ore che comunque per una cassa è davvero un buon risultato questo prodotto sarà disponibile nelle prossime settimane da logic a 199 euro e sarà acquistabile a tutti gli store europei e del mondo grazie a tutti e ci vediamo alla prossima